Numero 1. Ogni uomo ha diritto di voto nelle questioni importanti, ha uguale titolo sulle provviste fresche o sui liquori forti, in qualsiasi momento sequestrati, e gli usa a piacimento, a meno che una scarsità renda necessario per il bene di tutti votare un ridimensionamento. Al primo posto di questo codice dei pirati non si poteva parlare che di equità tra i membri della ciurma e dunque di beveraggi. I pirati hanno sete, soprattutto di liquori forti come vengono definiti nel testo. Sembra un cliché da romanzo e invece ha un aspetto già noto nell'età d'oro della pirateria. Black Bart mise nero su bianco il fatto che tutti i membri della ciurma avrebbero avuto diritto di voto ma, soprattutto, che avrebbero potuto usare a piacimento le scorte di alcol, sempre che non ci fosse stata una scarsità, cosa non insolita, aggiunge il capitano Johnson, l'autore del libro.